6.600 euro di base, un'indennità di funzione che varia da 2.700 a 800 euro più un rimborso per esercizio del mandato, tradotto chilometri percorsi in macchina, di 4.100 euro netti. Questi gli stipendi dei consiglieri regionali della regione Abruzzo attualmente in vigore e deliberati dall'ex presidente di consiglio Nazario Pagano. Leandro Bracco, trovate le carte, presenta una proposta di legge per la riduzione dei compensi. Perché io trovo veramente che sia una sprangata in testa, un pugno nello stomaco verso la collettività abruzzese che un consigliere regionale debba guadagnare, debba mettersi in tasca quella cifra per dei rimborsi spese che forse non esistono o che comunque se esistono esistono molto parzialmente. E la cosa importante è che se la mia proposta di legge che andrà in commissione a settembre dovesse essere approvata, il risparmio per le casse esangui della regione Abruzzo si attesterebbe all'incirca sui 900.000 euro. Io appunto in questa proposta prevedo che coloro quali risiedono in una città che dista al massimo 50 chilometri rispetto all'Aquila si portino a casa non più 4.100 ma 1.500. Chi risiede fra i 50 e 100 chilometri 2.000 e oltre i 100 chilometri di distanza rispetto all'emiciclo all'Aquila 2.500. Quindi io faccio affidamento al buon senso e alla decenza dei miei colleghi. Questa delibera è firmata da Nazario Pagano, si parla del governo Chiodi. La data risale al 27 dicembre 2012. La cosa si commenta da sé. Chi ascolta ha l'intelligenza per capire la matrice della decisione.